Ti auguro una buona giornata anche oggi, venerdì 24 marzo 2023, sia benedetto in nome del Signore. Anche oggi la vita ci è stata donata e anche oggi abbiamo l'opportunità di poter ascoltare il consiglio che viene dalla parola di Dio. Non è una cosa casuale e non è neanche un qualcosa da sottovalutare, è un grande privilegio poter ascoltare ciò che il Signore dirà al nostro cuore ed è un grande ancora più privilegio poter mettere in pratica ciò che lui ci dice. Quindi vogliamo aprire i nostri cuori e con un cuore sincero vogliamo dire Signore parlaci perché abbiamo bisogno di cibo, abbiamo bisogno della Tua parola, abbiamo bisogno del pane della vita, abbiamo bisogno di Te Signore. Gloria a Dio. Questa è la parola del Signore che oggi ascolteremo. Cristo ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto per gli ingiusti, per condurvi a Dio. Testo che puoi trovare nella prima lettera di Pietro capitolo 3 verso 18. Ed ancora, il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Testo che puoi trovare nel libro del profeta Isaia capitolo 53 versetto 6. E il titolo di questa meditazione biblica è questo. Al suo posto. Ha accettato di morire affinché un innocente potesse vivere. Questa frase fu pronunciata il 28 marzo 2018 durante l'elogio funebre di Arnaud Beltrame, ufficiale della gendarmeria francese, che si era offerto di prendere il posto di un ostaggio sequestrato da un terrorista in un supermercato, rimanendo gravemente ferito prima di morire. Il sacrificio di quell'uomo coraggioso suscitò molta ammirazione ed emozione in tutta la Francia. Di fronte a questo esempio di dedizione umana, come non pensare all'opera di portata universale e di durata eterna compiuta da Gesù Cristo, il figlio di Dio? Gesù ha offerto la sua vita non per una persona innocente, bensì per salvare per sempre tutti i colpevoli del mondo, se credono in lui. La Bibbia afferma inequivocabilmente che siamo tutti colpevoli, condannati dalla giustizia di Dio, il salario del peccato e la morte. È confortante notare tuttavia che a questa affermazione ne segue un'altra, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. La rigida giustizia di Dio ci condanna tutti, ma la sua immensa grazia offre a tutto il mondo, a tutti, il modo per essere salvate. Per far sì che questa salvezza ci fosse offerta anche oggi, il Signore Gesù ha dovuto prendere il nostro posto sotto il giudizio del Dio Santo. Per mezzo della sua morte noi abbiamo la vita. Egli è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Quell'ostaggio liberato non dimenticherà mai il sacrificio di Arnold Beltram e noi non dimentichiamo mai l'amore di Gesù che è andato fino alla morte per offrirci la vita eterna. Il Dio ci benedica, fratelli e sorelle, è stata una bellissima meditazione questa, mi ha incoraggiato tanto, spero che abbia incoraggiato anche te, che la pace di Cristo ti accompagna anche oggi e ci vediamo domani al solito appuntamento con il calendario cristiano Il Buon Seme. Ti saluto con la pace del Signore.